Buongiorno a tutti, oggi cominciamo un percorso insieme su Green Public Procurement e sui criteri ambientali minimi. Sono qui presenti e interverranno nell'arco della mattinata i relatori previsti nel programma che sono la dottoressa Silvana Riccio che è il nostro segretario generale, il dottor Tullio Berlenghi che è il capo della segreteria tecnica del ministro, poi a mio fianco c'è la collega dottoressa Lombardi che è sempre un dirigente del ministero che si occupa proprio di formazione di questa linea di intervento e di progetto e poi il dottor Biscaglia che è il presidente di Sogesid e quindi la società attuatore, attuatrice anzi del progetto, il dottor Bratti che è il direttore di Ispra e poi in platea abbiamo anche il nostro appena amato direttore, il dottor Grimaldi e i nostri colleghi qua numerosi che si occupano di questo settore e molti altri, molti altri voi siete intervenuti, siete numerosissimi, infatti ci fa molto piacere che questa è una tematica che suscita interesse perché suscita interesse sia in positivo che in negativo devo dire, cioè con delle criticità, è proprio questo infatti il tema principale di questa nostra attività perché il ministero con tante azioni concomitanti si propone di fare formazione perché sul tema dei criteri ambientali minimi che come sappiamo tutti è diventato obbligatori, sono obbligatori oramai per partecipare a una gara pubblica sono necessari determinati requisiti, quindi questi requisiti tecnici dei prodotti e poi c'è tutta la tematica dei requisiti soggettivi che non sono obbligatori ma se richiesti dalle sezioni appaltanti diventano obbligatori quindi questa tematica estremamente complessa richiede una profonda conoscenza quindi a volte la mancata conoscenza può far nascere delle problematiche e quindi è questo proprio il motivo per cui noi siamo tutti qua, cioè noi siamo qui per cercare di capire se ci sono delle criticità per il rispetto dei criteri ambientali minimi e quindi verificare quale correttivi porre perché ovviamente il ministero ha interesse il suo tema, uno dei suoi temi principali, quello di perseguire sulla obbligatorietà dei criteri ambientali minimi che consentono anche poi, che sono alla base dell'economia circolare quindi non è solo questo progetto che viene finanziato con fondi comunitari ma all'atere di questo progetto il ministero sta mettendo in campo tante altre azioni anche con le camere di commercio, dirette proprio alla formazione non solo delle stazioni appaltanti abbiamo per questo fatto anche un protocollo con l'ANAC ma anche alla formazione delle piccole imprese che sono quelle che nei nostri incontri protestano un po' di più, forse protestano senza a volte comprendere perché la norma in effetti a volte non è chiara. Ecco, io vi auguro di approfittare in un certo senso di cogliere queste opportunità di formazione che non saranno certamente inutili ma saranno molto utili e vi auguro anche un buon lavoro che nella giornata a seguire verranno poi introdotti dei momenti di conversazione più diretta dove voi potrete sollevare i vostri dubbi e noi potremo, se possibile, rispondere. Quindi arrivederci, ci vediamo dopo. Adesso passo la parola alla dottoressa Riccio.